In alto a destra troviamo il pannello Histogram. Monitorare l'histogramma è fondamentale tanto in fase di scatto, direttamente sulla fotocamera, quanto in fase di post-produzione, quando si vanno a regolare la scala tonale e la cromia di un'immagine. Questo perché l'histogramma è l'unico grafico, sempre disponibile sull'interfaccia, che ci dà una lettura scientifica tanto dell'esposizione dell'immagine, quanto di eventuali dominanti cromatiche. Per imparare a leggerlo e ad interpretarlo correttamente, basta pensare che l'histogramma non è altro che un grafico che rappresenta il numero dei pixel che in un'immagine corrispondono a quel certo grado di luminanza. In particolare, a destra troviamo il punto bianco carta, a sinistra troviamo il punto nero solido. Al centro sono distribuiti tutti i toni che dal grigio scuro vanno al grigio medio e poi alle luci. Se i valori dell'histogramma vediamo che sono tutti spostati verso destra, avremo evidentemente un'immagine sovraesposta. Se invece abbiamo dei picchi nella parte di sinistra, l'immagine risulterà inevitabilmente sottoesposta. Se vogliamo fare in modo che le nostre immagini abbiano un bel aspetto, la regola generale che dobbiamo applicare è la stessa regola che veniva applicata anche nella fotografia analogica da molti e molti decenni, e cioè la regola fondamentale che dice che una buona immagine deve avere bianchi puliti e neri profondi. Per ottenere questo, l'unico accorgimento fondamentale che dobbiamo avere è che il nostro histogramma sia pieno, cioè sfrutti al massimo tutta la scala tonale disponibile, dai bianchi ai neri. Evitando però la totale perdita di dettagli, tanto sulle luci, segnalate da questi picchi, quanto sulle ombre, perché in queste aree l'immagine apparirà nero solido e bianco carta, privando il soggetto del dettaglio dell'incarnato e dei capelli. Per evitare questo, può essere molto utile attivare la segnalazione dell'avvertimento alte luci e avvertimento ombre profonde, che è presente sull'histogramma simbolizzato da questi triangolini. Basta passare sopra con il cursore e già sull'immagine vengono visualizzate in rosso le aree chiare che hanno perso dettaglio e sul triangolino di sinistra ci appaiono le ombre che hanno perso dettaglio e che quindi in stampa appariranno nero solido. Se vogliamo vederle permanentemente sull'immagine in sovraimpressione, basta semplicemente fare clic sopra questi triangolini, in modo tale che questa visualizzazione rimane permanente sulla foto. L'histogramma all'interno di Lightroom ha però una particolarità. Oltre ad aggiornarsi in tempo reale, infatti abbiamo visto che muovendo i vari cursori ci dà un'anteprima istantanea di come quei toni si stanno distribuendo sull'immagine, ha in realtà anche la particolarità di consentirci di plasmarlo agendo direttamente sulla sua interfaccia del tutto interattiva. In particolare, se volesse andare a recuperare dettaglio su queste ombre che in stampa potrebbero apparire troppo cariche e dense, posso posizionarmi direttamente sull'histogramma nella parte di sinistra e quindi quella relativa alle ombre e andare a trascinare l'histogramma verso destra. Vedete come, muovendo la forma dell'histogramma, inevitabilmente i neri si vanno a schiarire. Se mi sposto troppo verso destra ottengo un'immagine del tutto priva di neri e quindi l'histogramma non è più pieno e di conseguenza l'immagine in stampa apparirà un po' sbiadita. Solitamente il giusto punto di compromesso è dato da un'immagine che presenta alcuni dettagli neri, come in questo caso, in modo da avere alcuni punti della foto sufficientemente neri da far apparire il resto dell'immagine assolutamente brillante. Lo stesso accade per le luci. Se volessi andare a recuperare questi dettagli che a causa di un'eccessiva sovraesposizione in fase di scatto sono andati persi, potrei cercare di sfruttare al massimo le capacità intrinseche del formato di salvataggio RAW andando a trascinare l'histogramma dalla parte destra verso sinistra. In questo caso vediamo come nell'immagine si va a ricostruire il dettaglio che avevo perso. Oltre questo non riesco a spingermi in questo caso perché questi dettagli sono andati del tutto persi in fase di scatto. Ciò significa che malgrado abbia scattato in RAW, l'esposizione in questo punto dell'immagine è talmente alta che di fatto ha causato una perdita di dettaglio su tutti e tre i canali. Fino a quando almeno uno dei canali non ha perso del tutto le informazioni, Lightroom è in grado di ricostruire dettagli mancanti. In questo caso invece lo riusciamo ad apprendere anche dai dati RGB disponibili sull'interfaccia di Lightroom. In questo caso quindi anche i dati RGB ci dicono che in quel punto l'immagine ha perso del tutto le informazioni e quindi in stampa non avremo dettaglio né sul canale del rosso, né sul canale del verde, né sul canale del blu. Bianco carta puro. Se temiamo di confonderci su quale è il punto dell'istogramma da toccare per ottenere determinati risultati, ad esempio schiarire le luci, scurire le ombre o influenzare i mezzi toni, vediamo che spostandoci sopra l'istogramma il grafico ci dà una segnalazione in chiaro di quale sono i toni che muovendo l'istogramma in quel punto verranno influenzati e ci appare sotto l'istogramma la scritta che ci dice quale tipo di toni viene influenzato, quindi i neri, i toni scuri, i mezzi toni chiari e le alte luci. Per comprendere al meglio il ruolo strategico dell'istogramma, passiamo ora ad un'altra immagine che ci aiuterà a capire meglio cosa intendo quando parlo di bianchi puliti e neri profondi. Selezioniamo ad esempio questo fotogramma. Se analizziamo l'istogramma di questa immagine, vediamo che, seppure caratterizzata da alcuni bianchi puliti in alcuni piccoli dettagli, questa foto è in realtà in prevalenza caratterizzata da toni medio-oscuri, soprattutto per via dei capelli e dello sfondo della ragazza, ma è del tutto priva di neri e infatti appare assolutamente sbiadita e priva di carattere, contrasto, luminosità. Per correggere l'aspetto di questa immagine, può essere quindi sufficiente spostarsi sull'area dell'istogramma relativa ai blacks e quindi ai neri e trascinare l'istogramma come se fosse pongo, facendo in modo che riempa del tutto la scala tonale disponibile. Il pannello Instagram ci visualizza inoltre alcune informazioni essenziali relative allo scatto e quindi in particolare agli iso utilizzati, alla focale, all'apertura del diaframma e al tempo di scatto. Queste informazioni possono essere davvero molto utili quando si va a fare una selezione comparata tra più scatti, per cui privilegiare uno scatto meno sottoesposto oppure con iso meno elevati può significare avere meno problemi, per esempio, legati al rumore.